Buonasera, benvenuti a questa mia prima intervista da best player. Non volevo fare molti giri di parole, volevo solo ringraziare chi mi ha votato. Pare che sono un grande fratello! Pare che sono un grande fratello! Come dice il grande Zeman, il risultato è sempre figlio della prestazione, quindi sono stato best player in merito della mia squadra. Un bacio a tutti! Grazie per la visione!